Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e nello specifico dell'emergenza migranti costantemente in primo piano praticamente ogni giorno. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha tratto in salvo 48 naufraghi a largo delle coste siciliane a circa 45 miglia da Capomurro di Porco nel Siracusano. I migranti, 40 adulti e 8 minori di diverse nazionalità erano in difficoltà. Lo sbarco in banchina a Pozzallo si è concluso in piena notte. Sono stati trasferiti, dopo le operazioni di identificazione, all'hotspot di Pozzallo che attualmente ospita 400 persone, il doppio della capienza prevista. E quindi come vedete è un'emergenza davvero ogni giorno, costantemente in primo piano, non soltanto a Lampedusa dove l'hotspot continua a rimanere stracolmo, ma anche a Pozzallo che, come avete sentito, ospita al momento il doppio dei migranti rispetto a quanto potrebbe in realtà ospitarle. Insomma una situazione davvero critica. Ieri la telefonata di Mattarella a Macron per cercare di distendere un po' gli animi dopo la crisi diplomatica tra Italia e Francia degli ultimi giorni vedremo come si evolverà questa situazione di grande emergenza in Sicilia. Cambiamo argomento, adesso ci spostiamo virtualmente a Palermo. Sono cinque gli operai feriti nell'esplosione avvenuta all'interno della fabbrica di biscotti Frolsi in via Calcante, nella borgata di Tommaso Natale a Palermo. Tre di loro, gravemente ustionati, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale civico nel reparto di chirurgia plastica, uno invece in codice giallo a Villa Sofia. Altri due hanno ferite più lievi. I tre feriti gravi hanno 22, 27 e 42 anni. L'esplosione, che sarebbe stata causata da una fuga di gas, ha provocato gravi danni alla fabbrica. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo dei forni sul posto per le operazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora cronaca con una notizia che arriva invece da Agrigento. Una rapina è stata commessa nel pieno centro storico di Agrigento per la precisione in via Empedocle. Un giovane malvivente, avvolto scoperto e non armato, ha bloccato e minacciato un quindicenne costringendolo a consegnare quanto aveva in tasca, ovvero 10 euro. Della vicenda si stanno ora occupando i carabinieri della compagnia di Agrigento. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero aiutare i militari dell'arma a risalire al responsabile. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso autore di altre rapine simili. Ed ora invece a Caltanissetta dove due uomini stavano litigando armati di coltelli. Sono intervenuti i poliziotti e loro hanno opposto resistenza. Alla fine sono stati bloccati e poi denunciati. Vediamo il servizio. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della Repubblica due uomini, un 53enne e un 29enne, a vario titolo, per i reati di porto di armi o d'oggetti atti a offendere, resistenza e minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento. L'equipaggio di una volante, a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto in via Re d'Italia dove erano stati segnalati due uomini armati di coltello. I poliziotti hanno identificato i due contendenti, un 29enne che poco prima, in stato di agitazione, armato di coltello aveva danneggiato il portone di una comunità di accoglienza e due autovetture parcheggiate nella predetta via e un 53enne, il quale, armato di mannaia e coltello, era sceso in strada dalla propria abitazione per affrontare il 29enne. I predetti, bloccati dai poliziotti, coadiuvati da un equipaggio dell'arma dei carabinieri, sono stati sottoposti a perquisizione personale e condotti in Questura. Nella fase dell'identificazione e delle perquisizioni, entrambi i fermati hanno posto resistenza nei confronti dei poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni. La mannaia e i due coltelli sono stati sequestrati. Ci spostiamo adesso a Enna per parlare del fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Alla luce di questa grave emergenza che coinvolge soprattutto i giovani alla guida, il Questore di Enna ha disposto dei mirati controlli. Vediamo il servizio. La guida sotto l'effetto di alcol e droghe rappresenta una delle cause principali di incidenti stradali e decessi, soprattutto tra i giovani. I dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza registrano un costante aumento rispetto agli anni precedenti e in considerazione di questa emergenza, il Questore di Enna ha disposto tutta una serie di controlli da espletare in tutta la provincia ennese. Durante l'ultimo weekend, pattuglie dell'ufficio volanti della Questura e della Polizia Stradale di Enna hanno effettuato una serie di controlli nel comune capoluogo, congiuntamente al personale del locale ufficio sanitario provinciale, che a bordo di unità mobile, alla presenza del medico della Polizia di Stato, hanno verificato la concentrazione di alcol espirata dai conducenti dei veicoli e mediante l'utilizzo del drogometro in dotazione all'ufficio sanitario hanno riscontrato se i conducenti fossero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso l'esame della saliva. In totale sono stati controllati 73 veicoli e 91 persone e tra queste due sono risultate in stato di ebrezza alcolica e una positiva all'uso di sostanze stupefacenti. Le sanzioni previste hanno comportato l'immediato ritiro della patente di guida e importanti sanzioni amministrative. I controlli, finalizzati a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, proseguiranno anche nelle settimane a venire, al fine di cercare di porre un freno a un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade. E a proposito di guida sotto l'effetto di alcol e droghe, nel Catanese sono state denunciate due persone. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Randazzo, congiuntamente ai colleghi della stazione di Bronte, hanno effettuato un servizio di prevenzione a largo raggio finalizzato al contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e droga nei territori dei comuni di Bronte e Maniace. In particolare, nel corso dei numerosi controlli su strada, i militari dell'arma hanno controllato a Maniace un 47enne brontese alla guida di un'auto, che ha mostrato sin da subito sintomi riconducibili al recente abuso di alcol, come confermato dall'alcol test, a seguito del quale è stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. I carabinieri hanno pertanto proceduto al ritiro della patente dell'utente della strada, che è stato altresì deferito all'autorità giudiziaria per guida sotto l'influenza di alcol. Analogamente è scattata la denuncia per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti nei confronti di un 28enne brontese, il quale, in sella a uno scooter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. All'esito degli accertamenti effettuati presso l'ospedale, il giovane è risultato positivo all'assunzione di cocaina e oppiacei. Da inizio anno i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno elevato circa 1.400 contravvenzioni al codice della strada, di cui 200 soltanto nel mese di settembre. Negli incidenti stradali più gravi spesso sono coinvolte persone che si sono poste alla guida di veicoli sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ed ora una notizia dal Siracusano, per la precisione da Franco Fonte, dove i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 39enne pregiudicato del luogo per il reato di evasione. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, è stato sorpreso e bloccato dai militari della locale stazione Carabinieri mentre girovagava a piedi sulla pubblica via. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato ricollocato ai domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Da Franco Fonte ci spostiamo adesso a Trapani e continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese classe 53 in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dovendo espiare una pena di 12 anni di reclusione per reati di rapina, estorsioni, furti e danneggiamenti commessi a Trapani nel 2016. Il 69enne, in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Trapani, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Torniamo adesso a Caltanissetta, dove un trentenne originario di Foggia, ma residente proprio a Caltanissetta, è stato tratto in arresto dai carabinieri per le continue violenze inflitte alla compagna. L'uomo infatti avrebbe più volte picchiato la donna, tanto da fratturarle anche l'avambraccio in un'occasione. Stanca dei continui maltrattamenti subiti, la vittima si è quindi recata dai carabinieri per denunciare il trentenne, il quale, come detto, è stato poi tratto in arresto dai militari dell'arma. Torniamo invece nel Siracusano, stavolta a Pachino, dove un uomo, un percettore del reddito di cittadinanza, ha pensato bene, anzi decisamente male, di mettersi a vendere castagne e droga. Il lavoro di venditore di caldarroste e il reddito di cittadinanza non bastavano a un trentasettenne residente a Pachino, che è stato tratto in arresto dagli agenti del locale commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è caduto nella rete degli investigatori, che hanno notato in lui un malcelato nervosismo alla vista della polizia, mentre svolgeva l'attività di vendita di castagne. Un accurato controllo personale, esteso all'autovettura del soggetto, ha consentito di rinvenire e sequestrare 24 dosi di cocaina, 15 di marijuana e del denaro. A seguito di quanto rinvenuto in strada, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell'arrestato, che ha permesso di acclarare che lo stesso confezionava lì la droga, poiché sono stati rinvenuti sopra un tavolo, un piatto in ceramica intriso di sostanza stupefacente, delle schede telefoniche utilizzate per tagliare la droga, un bilancino di precisione, della mannite, un frullatore e alcune bustine di plastica utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Dopo le inconvenienze di legge, l'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato opposto agli arresti domiciliari. E sempre a proposito di spaccio di stupefacenti, a Messina i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione della marijuana. Ovviamente sono intervenuti e hanno tratto in arresto un 56enne. La polizia di Messina mette assegna un arresto nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio, finalizzata tra le altre cose, al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Stavolta essere sottoposto alla misura limitativa della libertà personale, è stato un 56enne messinese ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, che lo stesso essiccava in un appartamento usato come laboratorio artigianale, all'interno del quale la droga veniva lavorata sino a ottenere le dosi da smerciare, con ogni probabilità sul mercato cittadino. Ad arrestarlo e a scoprire l'appartamento usato per l'essiccazione, la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente sono stati i poliziotti delle volanti, insospettiti, durante un controllo, dal forte e caratteristico odore della cannabis. La casa era stata attrezzata per tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione, che si evinceva dai resti delle piante tagliate e gettate all'interno di alcuni bidoni, all'essiccazione che veniva artigianalmente svolta con l'ausilio di comuni stendi biancheria, utilizzati come siccatoi casaringhi per l'infiorescenza della pianta e garantita anche con un apposito sistema di riscaldamento. Rinvenuto all'interno dello stabile anche un bilancino di precisione, un'apparecchiatura per la chiusura di buste sotto vuoto e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. A confermarne la destinazione d'uso, i circa 700 grammi di marijuana allo stato erbaceo, che i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato in contenitori diversi, quali buste, vaschette e persino bacinelle. Gli agenti hanno pertanto proceduto all'arresto in flagranza dell'uomo, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari aggravati dall'obbligo di portare il braccialetto elettronico. A Catania, invece, la polizia ha beccato un pusher minorenne. La polizia di Stato ha effettuato dei controlli volti a contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti in via Capopassero, luogo ad alta densità criminale dove anche i minorenni sono dediti a tali attività illegali. Nel corso delle operazioni, condotte dal commissariato di Nesima, un minore che ha interrotto l'istruzione obbligatoria e che appartiene a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato sorpreso con una busta contenente 41 involucri di marijuana, 185 euro di vario taglio e una radiolina che utilizzava per le comunicazioni illecite e per essere verosimilmente avvisato in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Il tutto è stato ovviamente sequestrato. Il giovane, alla vista dei poliziotti, si è dato la fuga ma è stato bloccato e poi tradotto presso il centro di prima accoglienza per i minorenni di via Franchetti. Ci fermiamo qui, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.